Il passatempo di paese stava nel farsi riempire bicchieri di granita, passava la lapa, era attrezzata con le vasche, tutte specchiate, coi coperchi a forma di cupola, e quelle granite servivano per metterci dentro le strisce di pane caldo. Col pane, infatti, si sciorina tutta la teoria dei gusti rintracciabili dal palato, primo, secondo, dolce e ancora prima antipasto. Il pane condito, facciamo ad esempio, una pagnotta intera spaccata a metà, aperta e bagnata di olio con sale, pepe nero e formaggio o alici, è una pietanza dell'origine, degna del paradiso certamente o campi elisi che dir si voglia, a dirla con Celso e il suo discorso di verità, e bisogna dirlo fuori di trasfigurazione secolare, perché l'idea stessa di averlo inventato, il pane, nel fondo della storia dell'uomo, non è quel bagliore lasciato per misericordia da padre Giove, è quello che si conta nel racconto del morire, è la cosmogonia assai in uso nelle case in un tempo vive ed abitate. Impastare il pane è la replica di una tempesta cosmica, si smuove l'acqua, il fuoco e il vento, simbolo di intimità è il pane, è una prossimità col divino e tutti i significati sono in lui, fallico e vaginale, quando si apre. E poi la tannura, la tanor che forgia la brace, è quanto di più chiaro tra le metafore, perché a tanor è alchemia, e se c'è alimento universale, pagano, quello è il pane, così come il sole invitto, è un lesto sorriso di Giove.